Il sottoscapolare è probabilmente il tendine più importante della spalla, è il vero motore della spalla ed è un tendine che per molto tempo è stato poco considerato con lesioni che ancora oggi purtroppo passano misconosciute sia nelle risonanze magnetiche che spesso anche negli interventi chirurgici. Quindi un concetto chiaro deve essere quello di porre sempre l'attenzione al tendine del sottoscapolare sia da un punto di vista clinico che da un punto di vista di imaging strumentale prevalentemente la risonanza magnetica e soprattutto la chiave di volta per cercare di fare un lavoro fatto bene sul sottoscapolare è la tempistica, sono tendini che vanno riparati molto rapidamente al di sotto dei tre mesi, sopra i tre mesi i risultati, gli outcome clinici tendono a calare. Quando ci si dedica a una chirurgia del sottoscapolare bisogna essere sempre pronti a fare qualsiasi cosa, compreso aprire, dover isolare strutture nervose, spesso strutture vascolari o ricorrere talvolta in situazioni non riparabili all'utilizzo dei transfer muscolotendini che possono essere di diverso tipo, ancora oggi la fa da padrone con il gran pettorale e parzialmente il piccolo pettorale. Grazie a tutti!